E come lo trovate questo evento? È bellissimo, perché è un momento di ritrovo tra amici, tra persone, magari si è in giro per fare gli acquisti, però ci si ferma tutti per venire a vedere Babbo Natale. Avete bambini? No. Quindi piace sia ai grandi che ai bambini? Assolutamente, siamo venuti qua apposta. Bellissimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla casella, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città, tutti insieme. Allora ragazzi, sono quasi arrivati alla città.